Siamo con Francesco, comitato Natal Terzo Valico di Ponte Decimo e San Quirico. Una nuova straordinaria giornata di lotta, una nuova giornata in cui il movimento Natal Terzo Valico porta a casa un risultato importante. Un commento sulla giornata. Sì, oggi siamo riusciti a far sospendere i lavori che avrebbero dovuto iniziare per la realizzazione di questo cantiere intorno, in questa splendida collina. Qui dovrebbe sorgere il cantiere della Galleria di Servizio Polcevera per intenderci la stessa cosa che una quindicina d'anni fa realizzarono a Voltaggio e a Fraconalto. Oggi siamo riusciti con la nostra fermezza e anche tranquillità a impedire i lavori. Anche perché pensiamo di avere non solo dalla nostra le ragioni per fermare questo scempio ma persino delle ragioni legali fortissime, visto che la famiglia che abita qui da decenni e che coltiva queste terre è proprietaria di questo terreno e ad oggi non gli risultano atti formali nei loro riguardi di esproprio e neppure di proposte di indennizzo. Quindi ci siamo ritrovati oggi al paradosso che se non ci fossero stati dei cittadini informati a impedire l'inizio dei lavori, la questura di Genova avrebbe fatto iniziare dei lavori basandosi sulle carte del Kociv che proprio oggi i nostri avvocati, i legali della famiglia abruzzese andranno a contestare carte alla mano. Per cui diciamo che abbiamo difeso la legalità dalle forze dell'ordine in questo caso oggi. Si rilancia domani? Domani abbiamo deciso comunque di garantire di nuovo un nuovo presidio visto che dobbiamo essere certi che non procedano un po' sotto traccia a iniziare dei lavori che pensiamo non abbiano neanche gli elementi legali per iniziare a farli.